L'evoluzione tecnologica del sistema giudiziario serbo passerà anche per l'operato di un'azienda bellunese. Si tratta di DBA Group SPA, società di consulenza tecnologica specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni al supporto del ciclo di vita delle infrastrutture. Siamo stati molto bravi attraverso la nostra controllata di Ljubljana Unistar ad acquisire in joint venture con altre quattro società una commessa estremamente importante dove noi eccelliamo in termini di know-how che consiste nella progettazione, realizzazione e fornitura di tutte le tecnologie necessarie a realizzare due data center dove risiederanno tutti i dati delle pratiche giudiziarie dell'intera Serbia con l'obiettivo, visto che c'è l'Unione Europea che sponsorizza questa importante gara da 10 milioni di euro che ci siamo aggiudicati, di adeguare il sistema giudiziario e della giustizia in generale della Serbia a quelle che sono le regolamentazioni e le usanze europee in vista di una futura adesione del Paese all'Unione Europea. Il sistema giudiziario serbo, si legge nella relazione 2020 della Commissione Europea, continua a fare affidamento su diversi applicativi di gestione dei fascicoli non interconnessi tra di loro. Vi è la necessità sempre più urgente di una strategia globale in materia di ICT con scadenze precise e relativi impegni finanziari. Da qui è nata l'opportunità colta da DBA Group. A regime, dopo che avremo fornito tre anni di training al personale che gestisce la giustizia nelle varie città in Serbia, verranno digitalizzati tutti i fascicoli e di conseguenza ci sarà una giustizia online come quella che vorremmo avere anche in Italia che non abbiamo.